Bellissima! Andiamo a riempire la tortiera. Vi consiglio sempre di utilizzare una pasta frolla ben fredda e ora mettiamo in frigo mentre prepariamo il primo ripieno per la pastiera classica. Inseriamo prima la ricotta che è stata in frigorifero almeno 12 ore. Aggiungiamo lo zucchero e lo zucchero vanigliato, il sale, la crema pasticcera a emulsionare bene tutti gli ingredienti. Aggiungiamo le arance tritate e il grano cotto. Uniamo la buccia di arancio e il limone grattugiato, le uova intere sbattute, poi il latte fresco, due gocce di fior d'arancio e due di cannella. Versiamo tutto il ripieno nella tortiera di pasta frolla. Realizzare le classiche strisce in orizzontale. La nostra pastiera è pronta, la mettiamo in forno intorno ai 170 gradi per circa 45 minuti. Grazie.